351 nuovi casi di covid in Abruzzo, 14.768 i test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività del 2,4%. Il più piccolo tra i contagiati a 10 mesi, il più anziano a 97 anni. 8 ulteriori morti, 2 nel Chietino, 1 nell'Aquilano e 5 nel Pescarese, che portano il bilancio delle vittime a 1.628. Del totale odierno 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. Considerando anche i 293 guariti, attualmente in Abruzzo vi sono 12.972 positivi accertati, più 48 rispetto a ieri. 593 pazienti, più 7 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica, 76 in terapia intensiva con due nuovi ricoveri, per un tasso d'occupazione nelle reanimazioni, che supera quota 40%. Mentre gli altri 12.304, più 42 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Questa mattina il Consiglio dei Ministri ha rinnovato, tramite decreto legge, il blocco dei trasferimenti tra le regioni, anche in zona gialla, e ha introdotto il divieto, in zona rossa, di far visita a parenti e amici, spostandosi verso abitazioni private diverse dalla propria.